Ciao a tutti e a tutte e bentornate sul mio canale. Questo è un video sempre della serie del business per consulenti do terra, ma non solo, per tutte le persone che vogliono intraprendere un cammino di miglioramento e realizzazione personale. Se ve li siete persi andate a recuperare i video precedenti in cui definisco il successo e vi mostro tre passi per come raggiungerlo più facilmente. In questo video voglio essere ancora più pratica e darvi qualche consiglio su come incrementare il vostro successo a partire dalla vita di tutti i giorni, quindi qualche consiglio da applicare ogni giorno per diventare persone più realizzate, più felici e più in grado di aiutare gli altri e di cambiare le cose. Dunque, ce ne sono soprattutto quattro su cui vorrei insistere, ma poi è bello che magari ognuna di voi trovi anche qualcosa che la fa sentire particolarmente felice e soddisfatta alla fine della giornata. Quindi una cosa che ho già detto nei video precedenti è quella di stabilire degli obiettivi. questi obiettivi possono essere appunto giornalieri, mensili, semestrali eccetera. Oltre a questo ci sono dei consigli appunto che possiamo seguire davvero tutti i giorni. In primis, la cosa che davvero preferisco di più e che è successa nella mia vita quando ho cominciato a lavorare con doTERRA è stato il lavorare su me stessa. Quindi primo consiglio, prima tip diciamo quotidiana è lavorare sempre, ogni giorno su noi stessi. Che cosa significa? Quando si sceglie di essere consulente doTERRA vogliamo davvero dare il meglio alle persone. Dobbiamo essere noi stessi in primis, persone che sono felici, realizzate e soddisfatte della propria vita. Probabilmente se avete intrapreso questo percorso è proprio perché volete aumentare questo voi stesse nella vostra vita, no? Magari non vi sentite completamente realizzate nel posto di lavoro che avete, ci sono tanti aspetti della vostra vita che vorreste migliorare. DoTERRA è l'occasione perfetta per fare questo perché quando davvero siamo felici e innamorati di noi stessi riusciamo a condividere questa gioia, condividere la nostra stabilità e il nostro successo anche con gli altri. Gli oli ci danno una mano enorme in questo e ovviamente è un'opportunità che ci spinge davvero a lavorare tanto su noi stessi. Lavorare su me stessa significa scrivere ogni giorno, a fine giornata o all'inizio della giornata, almeno tre cose per cui siamo grati. Possono essere anche le stesse ma è bello cercare di impegnarsi a trovare cose per cui essere grati, magari diverse, ogni giorno. Ed è un esercizio meraviglioso. Quando esprimete gratitudine all'universo, l'universo vi manda ancora più cose di cui essere grati e la vita diventa una gioia e una soddisfazione continua. Dovete davvero provare questo perché qualunque tradizione spirituale che si rispetti lo dice e davvero cambia davvero moltissimo le cose. Ci fa affrontare la giornata o la nottata con il sorriso. Un altro aspetto del lavoro su noi stessi che voglio sottolineare è quello di tenerci motivati e ispirati. Posso sembrare io una persona che motiva e ispira tantissimo ma a mia volta ho bisogno di essere ispirata e motivata. Ho già consigliato in qualche video precedente dei libri da leggere sul miglioramento personale, sulla crescita personale. Essere ispirati e motivati si può realizzare non soltanto leggendo libri di un certo tipo ma anche ascoltando podcast su persone magari di successo che condividono la loro filosofia o semplicemente qualcosa che ci ispira a essere migliori ogni giorno. Quindi guardare anche dei video, magari io guardo tantissimi video ogni giorno. Cerco di occupare almeno 15 minuti del mio tempo, fino a 4 ore del mio tempo per guardare video di altre persone, soprattutto persone in doterra perché sono tutte molto felici e realizzate. Le persone che tipicamente fanno da terra sono davvero persone meravigliose e lo vedrete mano a mano. Questo fondamentalmente e magari appuntarci anche delle frasi che ci sono piaciute molto, motivanti. Io spesso le condivido anche sui social, le condivido con le mie consulenti e ispirare a nostra volta altre persone. Quindi non tenere tutto per noi ma condividere la nostra gioia, il nostro entusiasmo e la nostra ispirazione e motivazione ogni giorno con gli altri. La seconda cosa oltre a lavorare su noi stessi è l'essere in salute al massimo, essere sani, essere super pieni di vitalità e di gioia. Voglio dire, non lo vorremmo essere tutti, non vorremmo essere in primis noi le persone più sane che conosciamo? Come facciamo a condividere salute e benessere se in primis noi stessi non ci sentiamo del tutto in armonia e allineati? Lo so, magari non è semplice nella società odierna mantenere salute, benessere, equilibrio, però è decisamente qualcosa che vale la pena fare. Quindi prendete LLV, Lifelong Vitality Pack, l'integratore per la vitalità e il benessere ogni giorno. Cercate di realizzare i vostri obiettivi di salute che se possono essere il perdere peso o l'aumentarlo o il definire meglio la vostra forma fisica. Fate yoga, meditate, curate la vostra salute mentale, fate cose che vi appassionano, usate gli oli tutti i giorni. Può sembrare banale ma spesso siamo presi da mille impegni e non lo facciamo. Anche solo diffonderli o massaggiarli sui piedi, sulle mani a fine giornata è qualcosa di meraviglioso che ci fa davvero tanto sentire meglio. La terza cosa di cui vorrei parlarvi, oltre a lavorare su noi stessi e a prenderci cura della nostra salute e benessere, è quella di avere delle routine. Può sembrare una cosa banale però avere delle routine che magari possono rientrare anche nel discorso degli obiettivi giornalieri è fondamentale. Può essere anche solo la mattina, mi sveglio a quest'ora e la prima cosa rifaccio il letto, mi faccio una doccia, mi trucco, faccio dell'esercizio fisico, mangio queste cose a colazione, mi preparo il pranzo. Avere delle routine ci mantiene disciplinati e è quello che in yoga viene definito sadhana. È alla base dell'essere virtuosi e dell'avere di fatto una pratica anche spirituale solida. Quando discipliniamo gli aspetti materiali della nostra vita possiamo controllare più facilmente quelli emozionali, quelli spirituali e quindi raggiungere un'armonia e un successo a 365 gradi. L'ultima cosa che vi voglio suggerire per incrementare il successo quotidianamente è imparare a dire no a ciò che non ci fa stare bene e imparare a dire sì di più a quello che ci fa davvero stare bene. Fare più le cose che amiamo ogni giorno. E imparare qualcosa di nuovo. Stare con gli amici, parlare di cose belle, informarsi. Non finirò mai di dirlo. Leggere, guardare video, avere delle conversazioni con persone nutrienti. E anche dire no alle cose che non ci fanno star bene. Quindi lamentarsi, tagliare fuori dalla nostra vita persone tossiche, narcisiste, vampiri energetici. E questo appunto fa parte secondo me sempre della disciplina personale. Se sentiamo davvero di avere il bisogno di circondarci soltanto di cose belle per incrementare la nostra energia positiva, fatelo. Non dobbiamo essere le croce rossine per forza di tutti. È bello aiutare, ma è importante anche salvaguardare la nostra salute personale e il nostro equilibrio energetico. Spero di avervi aiutato. Se avete qualche suggerimento su come incrementare il successo nella vostra vita o qualcosa che avete personalmente sperimentato o letto, scrivetelo pure. Condividete le vostre letture, i video che vi hanno ispirato, delle frasi. Mi fa tantissimo piacere che voi stesse mi diate un feedback. Al prossimo video, ciao!